ciao bella gente come andiamo tutto bene bello cambiare aria proprio bello ci trovi un po spaisato all'inizio però anche l'amicina si è trovata spaisata saluta micio gatti adesso mi sgagno saluta un po micio gatti guarda che mamma guarda che c'è ciao micio gatti che occhi della sossina che c'hai oggi ripartiamo da questa zona montana che comunque bellissima però stare troppo fermi in un posto poi magari ti rompi le scatole così questo mese una nuova prova di risparmio totale proprio per mettermi alla prova ho cominciato smettendo di fumare sono quattro giorni che ho smesso di fumare sto bene sto tranquillo quindi ho un 150 euro in meno al mese di spese di conseguenza sono 150 euro che mi trovo di più nel portafoglio in qualche modo comunque vi dicevo visto che adesso comunque siamo estate finita da non molto la notte fa un po freschina adesso si può anche risparmiare ancora un po sul gas magari utilizzando accorgimenti vestiti andando nelle aree di sosta dove c'è il dove c'è la corrente tutte queste cose qua si può riuscire a stare dentro un certo risparmio ragazzi questo modo come un altro per vivere è un modo come un altro a volte a volte c'è la settimana al mese in cui riesci a risparmiare di più perché non so hai avuto un'occasione hai sprecato meno risorse poi a volte mi capita a volte mi capita di rispondere anche alle inserzioni per dire cioè giustamente io mi sto impegnando a fare un lavoro video mi sto impegnando a fare certe cose mi sto impegnando con youtube però all'inizio non hai molti molti riscontri di conseguenza l'idea di prendere parte in un'azienda purtroppo ti viene nel senso purtroppo purtroppo per fortuna se riesci a trovare un lavoro di quel tipo ci vai a lavorare ti mantieni un po ti resti un po di grana ti rimetti un attimino in carreggiata comunque vabbè che vuoi fare questo è il posto dove sono stato circa quattro giorni siamo sulle colline bergamasche bel posto aria pura acqua pura tranquillo pochissime macchine non c'è non c'è gente che ti disturba non la gente è molto sulle sue comunque tranquilla bene io e da qui sono qui con il mio amico stivi stivirei blu lo vedete quello umone lì cattivissimo che meglio non guardarlo troppo che ti pietrifica e qui da questo laghetto anche se siamo in controluce non è al massimo vi do un bacione ciao